Ehi, Vlad! Io e il mio amico ci stiamo chiedendo qual è il modo migliore per uccidere un obeso. Non sono Vlad, sono Randall. Sono chiuso in questo cazzo di telefono. Oh, ma che strano. Però adesso dici qual è il modo migliore per uccidere un obeso. Non so, tapargli il culo e continuare a farlo mangiare. Ottima soluzione! Grazie, capo! Aspetta, Fitz, fammi uscire da qui. Quanto fa 72 per 11? Ehm, eh beh... Qual è la capitale del Maine? Ma chi se ne frega? Dove trovo lo streaming di Picard? Data muore nell'ultimo episodio. Ora va a fa' culo! Come è il cappello? Come puoi dimenticare di essere quasi annegato nel pube di tua madre? Kevin, sei tu? Devi essere tu. Nessuno farebbe una domanda del genere. Sono papà! Sono bloccato nel telefono! Devi aiutarmi, Kevin! Non c'è nessun Kevin. Sai, io mi chiamo Sank.